il governo con mario draghi lo stato di salute del pd l'alleanza con il m5s il segretario dem enrico letta fa il punto sui principali temi politici e dice che con il premier mario draghi c'è un asse positivo il pd lo sostiene con forte convinzione lo dice in un colloquio con il corriere della sera in cui spiega di non sentirsi isolato e di vedere l'arrivo di risultati stare al governo con draghi ci fa bene il pd è in salute e noi siamo a casa nostra il pd è in salute salvini no in sei mesi la lega ha perso il 6 per cento e noi abbiamo guadagnato il 3 per cento poi la promessa di trasformare in voti i sondaggi che li danno prima forza del paese e con il m5s conferma di voler aprire un cantiere discutere dell'alleanza per le politiche ognuno a partire dalla sua identità il centro sinistra è il mio obiettivo sull'incontro di ieri fra il premier e il presidente americano sottolinea di credere fortemente nell'intesa tra biden e draghi e nel fatto che oggi il presidente americano dica le cose più interessanti a livello globale osserva trovo una forte sintonia soprattutto sull'accoppiata equità e sostenibilità che è anche il mio mantra la situazione interna al pd vedo sostegno leale e vedo che c'è un dibattito culturale non ho nessun timore nessun elemento di preoccupazione dopo i primi tre mesi sono contento dello stato interno al pd anche di marcucci tranne rare eccezioni vedo sintonia e se le elezioni di autunno andranno male e chiederanno la sua testa per spingere stefano bonaccini al congresso ragioneremo passo passo ma lavoriamo per le politiche replica letta il congresso nessuno lo ha chiesto e io non lo chiedo abbiamo le amministrative il lavoro delle agora per costruire un nuovo centro sinistra ciao 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 ciao